La 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 mai in questi anni di fare considerazione sulla classe arbitrale, però oggi credo che non sia stato all'altezza. Fiducioso comunque per il futuro del cupello, per evitare anche i play-out? Ma guarda, noi stiamo bene, la squadra si allena bene, il mister lavora benissimo, quindi siamo abbastanza tranquilli e fiduciosi, certo, non è ancora tutto, quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo, dobbiamo essere sempre attenti, non possiamo assolutamente permetterci errori, quindi dobbiamo essere sempre questo, certo che siamo fiduciosi, noi siamo una realtà che cerchiamo di far uscire dal cappello il cappotto e quindi questa è la nostra filosofia, la nostra logica, è chiaro che lavoriamo, abbiamo anche l'attenzione e anche la squadra recepisce in maniera, chi viene da noi recepisce in maniera molto significativa questo nostro modo di concepire e quindi di conseguenza sa che deve lottare a denti stretti e con il coltello tra i denti, ogni gara, ogni momento della partita, quindi sicuramente dovremmo continuare con questo spirito, con questa determinazione, sapendo di soffrire fino alla fine. Mister Savini, direi un risultato positivo per il Migliani, che è vero voi avete bisogno di punti per muovere la classifica, ma questo girone di ritorno vi sta vedendo protagonisti? Certo, noi siamo venuti qua per vincere la gara, non ci siamo riusciti, prendiamo il punto, ma noi sicuramente dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più su ogni gara, dobbiamo cercare di vincere le gare, perché con i tre punti fai il balzo in avanti, con un punto smuovi poco la classifica, noi adesso abbiamo bisogno di smuovere la classifica, certo che è meglio un punto che perdere, questo è sicuramente il pensiero giusto, ma dobbiamo capire che in queste sette partite dobbiamo portare a casa più vittorie possibili su qualsiasi campo. Organico comunque all'altezza? Certo, questa squadra se fosse partita così dall'inizio del campionato avrebbe un'altra classifica, ma adesso siamo qui con la seconda parte del campionato, la squadra è stata rifatta a dicembre, sono arrivati la Selva, Orta e Gialloreto, ci hanno portato un tasso di qualità in zona di campo dove avevamo bisogno, speriamo che questo alla fine ci possa portare bene e cercare di portare a casa questa salvezza che è sempre il nostro obiettivo finale. Come giudica la prova del Cuppello invece? Questa è una squadra che l'ho vista l'andata, io non ero ancora l'allenatore del Miliani che mi aveva fatto un'ottima impressione, la vedo un po' giù da punista fisico, però è sempre una squadra con nomi importanti.